3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 6 9 9 10 10 10 Sì Perché senti? Senti il ritorno? Non sempre Tanto Ma Non so come fare Appena 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 Vabbè Leggerissimamente Quando magari alzo un po' la voce C'è il vocione C'è il vocione Cercate per la bassa voce Allora Cess su Si Genna quando mi chiami Cess su Va bene Va bene Proseguiamo In questo luogo Oscuro e tenebroso Pieno di acido Acidume Sì Come' la zella Infatti è verde Sì Infatti la zella Puzza acido Sono tutti acidi Questo gioco Io voglio andare a vedere questa cassa Posso andare a vedere? Eh, maniacca delle casse Come Kratos Cosa maniacca delle casse? Io cerco roba da vendere Addirittura non maniacca delle casse Ma io boh No, ma a parte che lo sai Il 19 settembre Esce per PC God of War Ragnarok Della serie Ormai esce tutto su PC Quindi cosa ne apprendiamo a fare? La console? Ma infatti io la PS5 non me la sono più fatta Eh no, ma in effetti ormai Non serve No, non serve Oddio Serve nel senso che Dipende che giocatore sei Perché magari se vuoi avere Semplicemente pochi cazzi E la comodità e basta Allora Prendi una console Che puoi attaccare anche al televisore Ti metti sul divano Ti stravacchi sul divano E giochi, no? Sì esatto Poi la console Non devi fare niente A parte quando l'avvii la prima volta Il gioco lo inserisci Si installa E via, no? Ma io ce l'avevo Non è così Su PC è già leggermente più Non è detto che sia così immediato Il poter giocare Magari c'è sempre qualche problemino All'inizio Non si avvia il gioco Lagga Hai sbagliato qualche impostazione Sì, devi sistemare impostazioni Sì, sì, sì Così E poi è il difetto E poi su PC Anche il PC può essere collegato al televisore Sì Però Se hai un PC È meglio il monitor Alla fine Sì, sì Assolutamente Va bene Ma Eccola A parte il combattimento improvviso A sorpresa Ma che è un dangio No, mi ricordavo Mi ricordavo Questa zona del veleno Dimmi che abbiamo salvato Sì, ho salvato poco fa Prima di partire Bene, bene Io sono indietro Che cuore Sono indietro E io sono davanti Benissimo Vai avanti tu Che a me Ma io mando avanti Il mio corvo Dai Ma questi sono Ah, zombie maggiore Insomma No, niente Vabbè Carlac, pensaci tu Dai Non c'ho neanche un'altura Niente Perché qui Mi ricordo Questa zona Ehm Piena di veleno Ma non mi ricordo Se era da attivare Questo è morto Mi sa No, invece no Perché Maledizione all'ultimo Manco sempre Aspetta Ah, ma il mio corvettino È rimasto indietro Acceccalo Acceccalo Anche se sono zombie Ma quanta vita c'hanno? 96 Ah, mento Questo zombie maggiore Zombie normale Ne ha meno Ah, ok, ok Sì, però ecco Non farti ingannare Che comunque Menano Gli zombie No, no Ma io Rispetto tantissimo Il nemico Io l'ho mancato Due volte Vabbè, ok Attenzione Che lo zombie maggiore Fa uno scatto Eventino Che non è da zombie Però vabbè Tocca a me Ce l'ho attirato Che uso? Sempre i trucchetti? Eh, sì Dal limite Puoi sbilanciarti Con Poca roba A cosa è Resistente al ghiaccio Al necrotico Immunità al veleno Immunità al veleno Resistente al ghiaccio Al necrotico Vabbè, gli butto Dardo di fuoco Dardo di fuoco Dovrebbero essere Teoricamente Deboli al fuoco Non in questo mondo Però Eh, infatti Esatto Vai Termino il mio turno Siamo a The Walking Dead Eh, allora Eh, no Però non voglio usare Sinceramente Scacciare non morti Anche se è l'ideale Però Vorrei conservarlo Vorrei conservarlo Facciamo così Eh, poca roba Però Ah, ecco Al limite Magari potrei evocare Un'arma Anzi Una roba contundente Ok 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 Scattavo tutti qua, eh Guardali, guardali Una bella palla di fuoco Eh, ma guarda Sì, dai Usa quella del bastone Però Sì, sì Aspetta che mi Appena Ah, non tocca a me Tocca a me, sì Quella del bastone Sì, sì, sì Eh, ma cazzo C'è una situazione Troppo Irresistibile Capisci Eh, sì Eh, sì E poi Non mi capita spesso, eh De De bruciare un mucchio d'ossa Eh Allora Io sono un vicino Però Eh, così Meglio Infatti Avvelenato Sì, ma avvelenato Non nel senso stretto Cioè nel senso Abbiamo svantaggio Col veleno Si ha svantaggio Ai tiri per colpire Non è che la vita Non ne risente Quindi Secondo me è anche meglio Però Allora Allora Vediamo se riesco A Ammazzare questo Oh Perfetto Così tocca subito a te Guarda Oh Allora Mi metto un attimo Qui Più centrale Quella Mi raccomando Quella Del bastone Sì, quella del bastone E qui Ah Ah, ok Ti piglio Ti piglio Sì, il piglio Vado Mamma mia Sai capì? Ah, gli hai Guarda che gli hai Ne hai seccati tre Solo che loro Hanno l'abilità Se non sbaglio Eh, boh Che tornano in vita Con un punto vita Praticamente Maledetti Sì Ho capito Ecco Quello L'ho bruciato Posto A posto Vediamo questo Via Ciao Ok Oh, c'è la coccarla Colpo critico Su Carlac Tocca A moi A moi Tocca A moi Ok Vado su Quello Quello Più Suo zombie Maggiore Sì Col fuoco Col trucchetto Però Eh Sì Eh, 12 Dai Ok Aspetta Che Non riesco a mirarlo Ok Sì Senti che musica Dai Praticamente È morto Vediamo Vediamo se Vediamo Sette Meglio Undici Tocca moi Tocca moi Tocca moi Mi Ah Niente A posto Chi è stato? Tu? Io Dai Ok Come una cogliona So pass Ecco Ha preso subito il loro Aspetta Anche se sei avvelenata Fa niente Cioè Tu passa Hai capito? Sì Sì Ma infatti So passata Non farti problemi È una roba tanto legata Allo svantaggio E ti devi colpire Quindi Va bene E qua mi pare Che non c'è nessun modo Per eventualmente Cosa c'è? Che? No No Niente Niente Disattiva turni Ah Sono troppo lontano Perché Ah già Ah è vero Ci sta No No Sì Ma c'è Poi c'è un ulteriore problema Che siccome c'è il veleno Praticamente Cuore scuro Non si muove Cioè Ah Cuore scuro E dai Su ciccia Dai Su Non vuole entrare qui Quindi io cosa avevo fatto Guarda Aspetta Convincila con una frase Delle tue Perché vedi Se io mi muovo in avanti Ah A un certo punto I compagni Mi sa che non mi Non mi seguono più Vedi Vedi Ah no Da tu Sì No No Dove va Ah vedi Carlac cerca di sfuggire Vedi Al Al veleno Da Carlac Vediamo Aspetta 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 Facciamo così Un attimo Che palle Sto coso Hai capito Non è scuro Tutta non mi tocchetti Che non mi caghetti Vai Ok Devo comandarli Uno a uno Praticamente Vai lì Vai lì Eh che caos Siamo tutti qua Ah magari Carlac Al riposo L'avevo già fatto Io direi che può bere Aspetta un attimo Perché Mi rimetto Pala Sì dai Mi rimetto un attimo Pala Tanto io Scassino Sì Allora Pala Ok E qui Mi rimetto Ma porca Ma no Ma con Carlac Aspetta Scusa Ah Ma che cavolo Se ce l'ho Posso Eh No Ok Serratura aperta Abbiamo salvato Ah sì Salvo Ma qui tanto Mi sa che Non c'è No Dovesse esserci Un altro scontro Vero Qua abbiamo trovato L'obitorio Ok Lì vedo già Una bella pozione C'è una grossa 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 Che mi dice Ma non è Ah no No È un elisir Non devi allontanarti Troppo Ti ricordi Pizza Eh lo so Qua è tutto così Eh Devo fare Sì 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 Cioè Magari esiste Un qualcosa Permanente Al posto di Staccato Di lanterna Magari se Liberavamo La pixie Però Non lo so Ma Non è che Mi fido tanto Eh Eh Altro che Ippocrate Che hai Trovato Vuoi vedere Trova gli appunti Di ricerca Del chirurgo Ti capi Capi Siringa Siringa Sacco Pozione Guarigione Maggiore Guarda C'è una trappola Ah Ok Elisir Forza Dei giganti Va bene Pozione Sono un po' Pozioni Di guarigione Beh Schifo Non ce fanno Infatti Poi c'è Il forziere Disattiviamo La trappola Un casino Vediamo Che c'è Detro Forziere Ah Eppure Chiuso Spet Io accendo Un cero Intanto Sì Ah Non niente Qua non si accendono I ceri Vero Allora Anello Della visione Perenne Non puoi essere Accecato Guarda Ho visto Ho visto Questo lo prendo io Ecco Va bene Va bene Andiamo di qua? Allora Io me lo metto Questo qui Per ora Ah subito Subito Eh sì Manda l'accampamento Ordina Per tipo Ok Così nessuno Mi può Accecare Ma scusa Io ho tirato Una leva Che cosa ha aperto? Accumulo Accumulo d'ossa Sta leva Secondo lei Cosa ha aperto? Ma io non vedo niente Di Vabbè 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 io la lascio Così Ecco Oh Non vedo passaggi Niente Ah infatti Infatti Scheletro Ok No niente Basta Di qua non c'è niente Dobbiamo Allora Rattraversare La nube Ah ma guarda Aspetta un attimo Vediamo se riesco Non li avevo visti Questi Vuoi vedere Mamma mia che brutto posto Disattiva Aspetta Andrà troppo avanti No no So qua dove stai De Ah ecco Ok Allora c'è il modo Ah vedi Non l'avevo Non l'avevo trovato Ok ok Per togliere di mezzo Sì 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 Normale Eh Devo trovare i condotti Sì I condotti Dove sono Qua Qua ce n'è uno Qua ce n'è uno C'è soprattutto Tutto di più Porca vacca Aspetta Eh Ok Disattiva Ecco Così un po' meno Fumo E un po' più arrosto Magari Non so Beh Arrosto è buono eh Disattiva Mamma mia Che postaccio Si è bagato un dado Aspetta Si è bagato un dado Oddio Ah no Beh uso un'ispirazione Dai Dai vai Dai vai vai Eh cavolo Ne abbiamo 50.000 Ok Oh Poi Dov'è l'altro condotto Qua Disattiva Bene Ok Ok Oh Un altro Qua Disattiva Ma io non voglio Parlar con voi Sto solo a camminare Credine Porca vacca Ho fatto uno Oh vado Eh uso un'altra Sì 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 Ragazzi ho fatto uno Comincia a fare Cellecca Eccala Boh Così ho levato il veleno Vecchia Oh Oh Vedi vedi che c'è la porta C'è una porta S'apre un portone Ed è qua Che c'è? Qua Qua c'è una porta Chi va avanti? Io Artista morto Oh Ah Hai visto? Qui ci sono delle bare C'è una chiave La chiave Cos'è? La chiave di riserva del laboratorio necrotico Qui c'è da leggere Secondo giorno di oscurità Il diario di Olam Mamma mia Vedendo il riposo dei beati Altra ispirazione Hai capito? Io leggo e questa trovo Ispirazione Vabbè Tu trovi ispirazione Oh pure io No anche cuore scuro Anche cuore scuro Ah ok Cos'è il cuore dei beati? Cos'è che è? Accantissimo Di voi Maledizione dell'ombra Ah qui trova il diario di Azimar Che è il suo rumore? Eh ma qui è tutto oscuro Mamma mia è brutto Forziere pesante Ma come? Di uno? Allora aspetta Tenta di nuovo Vediamo Una roba per te Cos'è? Tempo in attesa Tempo al tempo Quando vieni colpito Da un attacco in mischia Ottieni carica arcana Mentre carica arcana Vuol dire Mentre minacciata Questa entità Infligge due danni extra Con gli incantesimi Toa roba tua Dio dio Tu hai? No Mi facci vedere Vabbè ma è sempre Sto vestito Ma è Che cosa vuoi avere? Delle tuniche No Sei un mago Scusa Cioè Arancione 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 Col verde Del mantello Un pugno In un occhio Vabbè Basta che non guardare dietro Ecco Io Mi vedo sempre da dietro Sì no Teniti questa Teniti questa L'altra Manda Mando l'accampamento Teniti questa Oh Una volta che robiamo Una roba per te Ma che fa questa? Che caratteristiche c'ha? Ma come? Te l'ho appena detto Tempo al tempo Ah sì sì Ok ok Vabbè Se Se te beccano Sì 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 No no scuola Sentre sei minacciata Quindi se uno si avvicina troppo Infliggi due danni in più Con gli incantesi Come vedi Stai a palmo Dalle Ciappette mie Capito? Stai a me lontano Non me rompere Esatto Non me rompe Non me rompe 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 Non me rompe Non me rompe Ma se bare so vote Non me rompe A O A O Ma che si è difumata la nebbia? Ma io ho disattivato tutto Forse c'è qualche rimasuglio Non ne so Oh madonna Dai cuore scuro Muoviti Ma una cuore scuro Però sei veramente delicatina Arrivata 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 E dai E no Non mi tocchetti Che non mi cagchetti Proprio Eh c'è ne meno C'è sempre Ma c'è ne meno Di sta roba Vado Portone di quercia Ma che portone Eh chiusa una porta Si apre un portone E lì se andiamo verso luce Morimo Io te lo dico Ah da qua forse Sbucchiamo Mamma mia che roba Dove c'erano quei nemici Credo eh Però Allora qua secondo me Muro invisibile Eh lo sapevo Si vedeva Si vedeva Muro invisibile Si Muro nascosto Muro apribile Eh beh mica Siamo a Elder Ring Eh infatti Mi viene da Unità Eh troppo abitue Elder Ring Vediamo Questo ha Tentacoli neri Di Ebbard Ma Tu che cos'è Che aveva Ah no tu avevi Quello la Avvinghiando Scena c'è Contundenti per turno La madonna Aspetta Lo prendo io Ecco Fa vedere Io cos'è che avevo Ah io avevo Marchiari deboli Perché marchiare i deboli Non è male Vabbè ma sul codo Ci possono stare Più collane Beh dipende Dipende Non provo che No allora guarda Questo Questo Lo mando Io lo do a Carla Aspetta Aspetta A Carla Le do Marchiare i deboli Ecco E io mi prendo Questo Allora qui c'è un anello Anello del commercio Di Firizzo Inganno V1 Guarda un po' Firizzo Sul morto Sul morto Poverino Ah no inganno Inganno più 1 Fornisce più 1 Le prove di inganno Io Raccoglio il mio Vincenzo 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 A vendere A vendere A vendere Perché io son piena Eh vedi tu sei Un aspirapolvere Cioè io lo faccio per il gruppo Ma certo ma certo Diventa una cosa proprio Un'abitudine capito? Certo Certo Capisco 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 Poi visto che te non ci pensi Infatti Pensaci te Dai Io ho già Ho già dato Io Vedi Prendo anche le scorte Di cibo Ma certo Prendi Prendi Ok No Diamo se Ok Usciamo Però mi pare che c'era No andiamo avanti Non ne sono sicuro Ma mi pare che c'era uno scontro Eh Andiamo andiamo Eh andiamo Usciamo da qui Eh si dai Usciamo Dai Usciamo Andiamo verso la luce No Subito così proprio Eh si si Eh si si Era subito qua Perché sbucchiamo Praticamente davanti A quelli che avevamo visto Da lontano Nana dell'ombra Cosa cosa? Nana dell'ombra Si chiamano Ah na Ma dov'è? Avanti 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 c'è una che si chiama Nana dell'ombra Allora mando avanti Si impala Che si impala Allora io faccio una cosa Sull'ombra Voglio provare Voglio provare Questo qua Che è nuovo Riposo lungo Vediamo com'è Così Tentacoli neri Oh fantastico Di Evard Però peccato che non posso Cioè uno o l'altro Non posso mettere tutte e due Peccato Sia le Non posso mettere sia le spine Che queste Però che fighi E che fanno questi? Cioè li Li tengono saldi Li avvinghiano No? Eh li avvinghiano lì Creano terreno difficile Avvinghiando Le creature All'interno E con Avvinghiando Dice questa entità È trattenuta Da tentacoli neri Non può muoversi Ah non può muoversi E subisce 3 3 Barra 18 danni Contundenti Per turno A svantaggio Hai capito Hai tiri di strezza Su destrezza eh E le altre creature Hanno vantaggio Hai tiri per colpire Contro di esse Dai Non ho capito Va bene Ma io Tocca a Carlac Aspetta Guardate la camera Cioè io so prima Come può essere Vabbè No c'è Carlac Grande Carlac Io mi fido di te Carlac Oh Due critici eh Due critici Un perseguire Carlac Di fila Altro che Ragnarok Ragnarok Attaccoli neri Che ha fatto? Lezione arriva Beh le ombre sono ovviamente immuni Oh il Brett Questo è il Brett Ok Right 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 Attenzione che il right È resistente all'acido Al tuono Immuno al necrotico Resistente al fuoco Al fulmine Al ghiaccio Immuno al veleno Vabbè Quindi praticamente Certo Non gli posso fare niente De niente Proprio Ah vediamo se È niente È passato Eh Vabbè Vado de Comunque trucchetto? O vado de Sì Solo che è muna tutto Beh A vedere Anche al fulmine Eh Che ci devi fare? Ma che avevo fatto? Sono messi apposta Perché non fai dardo incantato? Dardo incantato Fa danni da forza E quindi a posto Fallo magari di livello 1 Non lo so Ma perché c'ho Intralciare ombre di Arabella? Ah Me l'ha dato lei Hai capito? Ah Vedi che hai dato qualcosa Eh Sì Intralcia I non morti E le creature dell'ombra Hai capito? Allora Ma ce l'hai Aspetta Dov'è? Ce l'ho Negli incantesimi Di livello 1 Sì Ma non lo vedo io Forse Vabbè Lo vedi te Però O c'ho davanti sta roba Non riesco a vedere Vabbè Vabbè Ce l'hai Consuma uno slot incantesimo Di livello 1 Sì Vado? Eh Però Contro il Rai Non so quanto Tu riesci a intralciarlo Ah no Però dice Cattura anche ombra Sì Sì Provo Provo Intralciato Intralciato Perista Ha intralciato anche Pala Però Vabbè Mi sta facendo danno Eh infatti Vai Vai Ok E direi che siamo a posto Carlac è qui E colpisce Ecco Ecco Ma che figata Questo Incantesimo E però Vedi che anche Gli amici Colpisce Quindi devi stare attenta Dove lo Casti Capito È arrivata Arrivata l'ombra Ce l'ha con te Ma io non gli ho fatto niente Scusi Cosa vuole? Cosa vuole? Cosa vuole? Vuole farti male Oh mia 20 danni Vai Ma scusa Ma neanche l'ho consumata Pensa Ce l'ho ancora Cosa? Ah interromperà la concentrazione Su Ah ecco Quello che hai castato Rimane lì È un incantesimo Però di concentrazione Vuol dire che se usi altro Che usa concentrazione Va a sostituire Capito? Vedere Vedi Intralcia i non morti Le creature dell'ombra Sì Però la superficie intralciante Può influenzare Tutte le creature Che si muovono Attraverso essa Ma secondo me Anche se dici Intralcia i non morti Le creature dell'ombra Cioè È una roba allora Che funziona Solo qui però Cioè Come andiamo via Da questa zona L'incantesimo Non vale più Lo scopriremo Adesso Attacca magari Quest'ombra 8 di vita Eh ma Con cosa? Vabbè Anche se di mezzi danni Dai Fa niente Usa il fuoco Non so Eh beh Fa niente Dai Ah Ah visto? Ah e col fuoco Hai bruciato I rampicanti Ah Che hai lanciato prima Capito? Vabbè Poi Adesso che lo sai Puoi Eh Usarlo per incendiare i nemici Eh sì Eh sì Questo è andato E colpiamo anche Sembra che rutta Ma è veramente Chiamiamolo ruttolo E allora E allora Carlac Pocca a me Pocca a me 10 danni Pocca a me Il mastino Se vuoi È solo resistente Ai danni fisici Quindi Quindi I trucchetti Li puoi usare Eh ma Mi devo spostare Non vedo Allora Che glielancio? Sempre un trucchetto Che c'ha? Qualche Diciamo Resistenza? No Hai danni fisici E vado sempre Col dardo di fuoco Sì dai Ah Ok Ah Vedi No vedi che gli fanno male Sì sì Fanno male Però magari Devono superare Forse un tiro salvezza Probabilmente Quindi non sempre Però intanto Sono trattenuti Non si sono più mossi Da quando erano lì Vai Grande Grande pala Grande pala Colpo critico Morto Ecco Questa Non l'ho presa Eh Vediamo Seccarla Ok Ok Vedi 11 danni Gli ha fatto I tentacoli Maledetto Io ti brucerò Ecco Ti ha bruciato lei E allora Brucia quest'altro Brucia quest'altro Però me devo avvicinare È avvicinati un po' Tanto sono bloccati Non possono Vedi Eh sì Tanta roba Sti tentacoli Mazza Veramente Di tali proprio Grande pala Che con uno di vita Ancora resiste No Qua Mi devo avvicinare Non riesco a vederlo Vediamo Vediamo più avanti Non ci arrivo Possibile Il movimento Non sufficiente No Non lo vedo Neanche a palombella E vabbè Allora niente Carla Non è neanche È proprio Nascosto lì Vabbè Aspettiamo Non sanno I tentacoli A fare il lavoro E Andiamo Ok Pala non se Ma muove E E Che a me Eh no Io Io passo Aspetta Carla passa Tu Se riesci alla Senza muoverti però Attenzione Non andare sui tentacoli Se no ti fai male pure te Aspetta Posso Eh Non so Posso Avvicinarmi Qui Eh Però Non so se lo Becchi Vediamo Perché è lì Un po' Eh no Devo andare per forza Sui tentacoli No Fa niente Passa 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 Non fare niente Passa L'unica che può fare qualcosa È cuore scuro Almeno credo Perché se si muove così Vedi Sì Perché ha passato il tiro Vabbè Vediamo È rimasto lì Vabbè Eh io non posso fare niente Manco pala Eh io Che cacchio posso fare Se mi metto qua Ah forse dalla Aspetta Salta qui Dove Dove Salta qui Ah ok Che ci arrivi Sicuro Sì Dovrei Yes No Hai preso Il muro Mi sa Hai sbagliato Mio Vabbè Allora Io salterei Niente Ok Dai lo becco io Ecco Alleluia Allora Leva Leva Ok Perfetto È solo che Sti tentacoli Praticamente Si possono usare Solo una volta Sono fantastici eh Per ogni riposo Lungo Tutti vuoti Nana dell'ombra Ma Questo va schifo Via No Il mio tesoro Ok Vabbè E praticamente Qui Vedi Sbuchiamo Abbiamo fatto un po' il giro Sbuchiamo Dove c'era La casa Di guarigione Qui però c'è un Passaggio eh Non vuoi vedere? Tu dove sei? Indietro Sono rimasta Passaggio Sì c'è un Marietranza Ah di qua Sì 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 No era per farti vedere Farti capire Sì 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 E qua Hai salvato? No perché abbiamo Sennò tocca Rifai fight Vero Ah ecco Io Lo scontro Con i git yankee Quelli che ci danno La caccia L'ho fatto qua? L'ho avuto qui Sì E quindi? E con i git yankee Dobbiamo dare Tutto noi stessi Ecco Perché sono forti Sono forti Quindi Quindi niente Dove dobbiamo andare? Più o meno Stiamo seguendo comunque La via Brutto culo Rinsecchito Ah guarda là Mamma mia Senti vogliamo andare a vendere Prima di andare avanti? Ah sì Perché io sono piena come nuovo Qua Qua c'avevamo il teletrasporto Sì Ah c'è il teletrasporto? Sì Al gran mausoleo Sì sì va bene Sì sì Andiamo Andiamo a Andiamo a La locanda no? Sì 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 Ok Controllo un attimino Se ho flaggato tutto quello che c'è da vendere Sì questo Tutto tutto Ok Sì secondo me Prendiamo un sacco Ma un sacco Un sacco di oro Prendiamo vai Infatti Infatti io adesso Prendo lo scudo Ecco Appunto Sì Bene Ma proprio giusti siamo Hai visto? Hai visto? Ci do Prendo lo scudo Tutto il mio Raccattare Fare la formighina Raccogliere Lo scudo per cuore scuro Aspetta un attimo Lo scudo per cuore scudo Sì Ok le avevo dato questo Ma praticamente non l'ha mai usato Allora manda l'accampamento Così lei Ha uno slot in più Di Incantesimo Di livello 1 Capito? Mita e capì Bene Però devo tenere la lanterna Va bene E quindi abbiamo venduto A posto A posto Se non torno indietro Vedi ordine per tipo Ok Ah no non possiamo tornare indietro Dov'è che dobbiamo tornare Quindi adesso? Adesso te lo Da il gran mausoleo Però aspetta Sì Andata l'accampamento Sulla mappa Vedo una cosa nera Ancora Leo Si può vedere Proprio a destra del mausoleo Ah sì Andiamo al gran mausoleo Dai Sì Andiamo a pulire la zona d'ombra Si può guardare Guarda Se si può passare Perché Secondo me no Ah non da qui Non da qui Non da qui Bisogna andare giù Andiamo giù Andiamo giù Guarda che fastidio Mamma mia Non si può veramente vedere Proprio quella mappa così O scuata O scuata Ecco Ecco qua Tanto qui No C'è qualcosa No Rosa cadavere Ho letto una lapide So che è successo Sì ho visto Ho visto Ho visto No ma che io in genere tocco Dove non devo toccare Capito Quindi Sarcofago Qui Non mi lasciate Solo qua fuori Oh c'è Una roba Volendo Tua Ma mi sa Che è quella Che hai È meglio Però aspetta Raccolgo Giusto vero Certo 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 Quando la veste Del morso Viene disequipaggiata Ah fino al prossimo riposo Lungo Eh Attenzione Eh Eh Invece Tu adesso Ah tu l'hai già equipaggiata Lo sai perché Lo sai perché azzurra Ma guardare Eh sì Ma sì Comunque no Effettivamente Tieni quella Eh Vedi Questa la vuoi dare Questa la vuoi dare a Gail Non lo so La vuoi dare a qualcuna Mandala Accampamento Ok 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 A posto A posto E no Quindi armatura di Agatis Lo puoi castare Perché tanto Lo usi Una volta Infatti ce l'ho Vedi Armatura di Agatis Una volta Però Lo puoi usare Una volta Per ogni riposo lungo E comunque Rimane attivo Fino al prossimo Riposo lungo Eh sì Eh sì Tanta roba Tanta roba Quindi vai Fallo Sì lo faccio Lo faccio Faccio subito Sì sì E in effetti Ti sta bene Vero? Sì Ecco qua Ecco qua Hai visto? Vai Hai 15 punti vita in più Mhm E chiunque ti colpisce Gli infliggi 15 anni da freddo Ah e questo effetto termina però Ahia Ok vedi Vabbè però intanto sei difesa Che non è male Visto che io Sono quasi sempre a terra Vero Oh naga Ma non voglio parlare con te Mi sei capitata davanti Non è questo il momento Ma chi te se copre? Hai visto? Brava Brava Lara Che inizia a imparare Che bisogna svelare la mappa Eh Ti hai visto? Eh no Non si può guardare Guarda Ovviamente Sombra scura No Va bene tutto Ma le ombre scure no Eh Ma dove sei? Scusa Io lo dite Ma è che sono diventata invisibile? Eh non so Ogni tanto ti perdo Eh mi perdi Uh che è? Oh È il mio corpo Questo casino Ok Sto leggendo un'altra lapide Ma certo Ok Possiamo andare dritto per dritto Guarda E andiamo Andiamo C'è un'ombra Ah sì Questa è l'ombra Quella là Che aveva incastrato Cosa? Che aveva incastrato Sì Ah qua c'è uno scontro Sì 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 Vedi Vedi Arpista dell'ombra Arpista dell'ombra Sono un po' di non morti Vabbè dai Ma ce li beviamo a merenda no? Eh Apriamo le danze Ah sì Io rimango Ok vi Vai 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 Beh È rimasto lì Ma scusa Ah ecco Ok Ci ha messo un attimo Ok Allora Paola la metto qui Così sta Aspetta Avanti Io Svantaggio Troppo bubio Vado un po' più avanti No Senti la musichetta Sì Carlac Ecco Allora va un po' avanti Mazzarola Eh uno di vita Un po' di ombre Un po' di ombre Ha il mio corpo Aspetta Vediamo se riesce a seccare Questo qui No Movimento non sufficiente Ah tocca a me E quindi Il corpo non può fare niente Ah ma io posso andare qua sopra Ma che davvero Ah no Ehm Ok Troppo buio Eh sì Hai un po' di svantaggio Vabbè Vabbè Provo lo stesso Sì sì Mancato Vabbè Senti Ridono Ridono Sì sì Ci prendono Per i fondelli Madonna Scatto Tutti davanti a Carlac Mancato Ti è Ti è Ehm Potrei No aspetta Che posso fare Questo 91 per cin Questo Vediamo Eh vabbè Tocca a Carlac Allora secondo me Tocca a Carlac Carlac 20 Grande pala Grande pala Ehm No Tocca a me Tocca a me Faccio così Eh magari così Ne becco due Dai Oh qua Questa è morta Mazzata Tutta sta scena Ma mia È bruciata È bruciata morta Eh ma in silenzio Ovvio di In silenzio Eh tutto Questo casino Di forza Su Corvus Senti come Ruttano Vabbè pala è morta Che c'è uno De vita Puretta Cioè Non è che posso Pretende Più di tanto Eh Prova a beccare Questo qua Ok Svantaggio Vabbè C'ho Svantaggio Svantaggio Vabbè Provo lo stesso Questo che è più vicino Oh L'ombra Pure Sì Provo sull'ombra Che entra più vicino Paggio di gelo 6 Lei resiste Resiste Io direi che dovrei curarla Ma curiamo a distanza Però Sì Di livello 1 Ecco Ah e poi comunque Possiamo Fare così Ecco Piamme sacre Via Così Vai Perfetto Vai Ma quanti danni Dai L'ombra è morta Praticamente 8 punti Oh le Eh Niente Eh Sì Eh Ci senti Taste orecchie Ci senti Eh Ci senti Ci senti Eh Ci senti Oh c'è quello là che è rimasto Lì su Eh Oh Ambedi che saracca Ambedi Ambedi che saracca Sto cretino Non da te Vai Faggiamo Chi è rimasto Ce n'è uno sopra Ah Là Che sta lanciando frecce 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 di Di me Sta lanciando frecce Eh Troppo lontano Eh Tocca avvicinarsi Sì No Io dalla nob Beccherò mai Mettiti L'aroma Per favore Eh Cuore scuro Può fare ben poco Allora Mi posizionerei Keep going Vediamo un po' Credo che di arrivarci Ok No È sufficiente Non ci arrivo Posso fare niente Vediamo E ci arrivo io Aspetta Un po' Ah Però Ah no Non posso Oh vai Critico Vabbè Dieci Mo' Lo secchi Movimento Non sufficiente Col corvo Ah Dov'è Fiamma sacra Mamma mia La potenza Di questa donna Eh Uh Un ovetto Guarda Subito Ci sono Ci due Allora La pozione La bevo Dai Eh Direi Anche un'altra Ok Va bene Dai E una piccolina Sì Perché abbiamo Abbiamo un riposo Breve Solo Va bene Oh guarda Qui c'è un'armatura Di classe 15 Serve? Eh Non credo Vabbè Metti Mercanzia Mercanzia Messo Messo Vediamo questo Che c'aveva Salva va Che se C'è Capita un altro Scontro Salva Mentre sto raccoglie Vabbè Eh Metto salva È un premuto Vabbè Nostra Sdalla Galava Dorm Le targhe Nascondono Qualcosa Sì Signora Del Mad Eh Ma che Che cosa Si è aperto Niente Però si apre Qua Sicuro O si è aperto Eh sì No No Si è aperto Niente Ma si è aperto Qua Secondo me Vanno Vanno Magari Cliccate in ordine No Eh può essere Sì Però Vediamo Questo Che dice Dolore La notte Sorgerà Ma che Si è aperto Si è aperto Sì Ho cliccato di nuovo Questo Hai capito Ho cliccato Quella che stava davanti Vai Entrata Qua Vediamo Ah La maledizione Non ha effetto Qui Bene Meglio Questo è E allora Guarda Cuore scuro Cambia subito Non l'avevi mai Mai visto Sto posto Ammazza Che belle statue Hai visto Mi ho visto Guarda che statue Fantastica Non mi ricordo No so che Forse o l'avevo letto O l'avevo visto Non mi ricordo Se l'avevo vissuto Cioè Ammazza Che posto Questa È la Dea Sciare Cuore scuro Esperta Ah Parte un filmatino Ah Aspetta Accetti Che Char Metta La prova Il tuo intelletto Annuisci Eh Non ho vantaggi Praticamente Una mente Senza sfide E una mente Ottusa Allora Aspetta Proviamo Io non ho vantaggi Perché è meno uno Da intelligenza Ma più uno Da mantello Della protezione Prova A me Provo io Magari tu hai più vantaggi Vediamo Sì Tre intelligenza Tre intelligenza Competenza Vado Ok vada Vada Quattordici Mazzate Aspetta Usa Ispirazione Dovremmo averne Un po C'è quattro Penso Sì 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 Usa Usa Dai Perfetto Perfetto E quindi E allora E allora Ah guarda Istruzione Della signora Oscura Questa entità Ha ottenuto La prova Non ti sento più Intelligenza Fino al prossimo Riposo Lungo Eh calla Lo sapevo io T'ho sentito più Aspetta Adesso te lo ripeto Però prima Esco E rientro Eh Se tu guardi Il tuo avatar Sì Sulla sinistra Mi ha dato Vedi tutti i vantaggi No Che hai Sì 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 E c'è lì Anche quello Che ti ha dato Adesso Praticamente Ti ha dato Mi senti Sì Adesso Sì Ti ha dato Più cinque A intelligenza Però tu sei già intelligente Ma io sono Una cima Proprio Cioè Più intelligente Di così Siamo Dai Però forse hai anche Sì Perché comunque Gli incantesimi Usano l'intelligenza Quindi Magari Hai dei vantaggi Sicuramente Durante gli scontri Capito Vorrei ben dire Allora Sì Ti invito Sì Mi inviti pure Ok E' arrivato E' chi c'è qua Sì Vedere Scheda Il tuo personale Infatti vedi Adesso hai 22 Di intelligenza Sì 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 Ah proprio Devasto C'è proprio Guarda Proprio Il devasto Però fino al prossimo Riposo lungo E' attenzione Quindi Dobbiamo cercare Di sfruttare Il più possibile Questo vantaggio Certo E visto che Sei intelligente Sì Dica Dica Qui c'è un'altra Statua C'è un'altra Targa Magari Vediamo Non so Sia questa qua Di lato Che quella al centro Non so Vediamo prima questa Ovvio Aspetta Tu hai 3 da saggizza Competenza Esci Fai termina Provo io Perché forse io Ho più di te Aspetta Vediamo Tu hai più 3 Più di meno Non puoi Proprio Guarda Ti sta sbagliare Tu sarai intelligente Ma magari io sono saggio Infatti Ma vabbè Uguale Più due saggezze Più uno No aspetta Aspetta Dobbiamo massimizzare Il risultato Aspetta E se lo fa Cuore scuro Scusa Ah prova prova Vedi cuore scuro Mie Chierico di Shard Guarda Aspetta Chi nel capo con umiltà Sei saggia Saggia Se Shard ti tiene tale Insipiente Altrimenti Oppure Chierico Annuisci La tua vita è più ricca Più saggia Con la tua divinità Al tuo fianco Vedi Ha pure vantaggio E vai Direi che Più l'ideale Farò fare a lei No Eh sì Eh Eh Quass'è A voglia Eh Vabbè Cuore scuro Però Ti sfondi Una porta aperta Cioè Posso dire Successo Grazie a sta ceppa Vediamo Siamo stata degna Che vantaggio ha Cuore scuro Questa idea ha tenuto L'approvazione di Shard Ah Più 5 a saggezza Uguale al tuo Solo che Vabbè Magari Poi metti Allora Vediamo questa altra Allora questa altra targa Facciamola vedere Sì Facciamola vedere pure a lei Questa targa Che forse lei è più Ah Magari lei è più Eh sì Dai Questa centrale Sì Guarda quanti vantaggi Che ha Richiamola la tua fede La tua devozione Lasciando che fluiscano Attraverso di te Mamma mia Sì Un tutt'uno Con la Shard Eh O Shakira Sì Eeeh Vabbè Eh vabbè Vuole scuro Però mai Ero un po' rotto Sì Eh Eh va come annuisce Eh Quindi Ah Si è aperto qualcosa Hai visto Eh sì Ha pure preso l'ispirazione Ma nient'altro Quaresco Eh Quaresco A due Aspetta A due vantaggi A più cinque Al carisma Cioè Vabbè Mamma mia Quanti vantaggi Fa vedere Ma scusa Ma tu Ah già Però è temporaneo Guarda Guarda nel libro Degli incantesimi Sì Avendo guadagnato Più cinque D'intelligenza Hai tre slot In più Incantesimo Vedi Che sono vuoti Oh cazzarola Eeeh Eeeh Mamma Vedi Però fino al prossimo Riposo lungo Eh Ah solo fino al prossimo Riposo lungo Eh sì Uguale cuore scuro Uguale Che peccato Eeeh Ti piacerebbe Beh intanto Proverei Mi metterei Questa allucinazione Mortale Di livello 4 Vai vai Metta Metta E anche io Metto qualcosa Però alla fine Di lei Non è che ho bisogno Chissà che cosa No vabbè Però Potrei anche mettere Un elementare Minore Di livello 4 Sì Metta Metta E poi Approfitto 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 Di questo Momento Di gloria Eeeh Ho letto blocca Persone E boh Facciamo anche silenzio Dai Andiamo Eh ma Qui non è Cio tanto Cos'è Tipo quel film Limitless L'hai visto Te lo ricordi Quello con Bradley Cooper Che prende la pillola Ah sì sì Esatto Esatto Il 100% Del tuo cervello Sì 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 Però poi Quando si sveglia Tu rincoglioni Allora io Prendo anche Questo globo Cromatico Prego Prego Sì Globo Cromatico Sì 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 Mamma mia Che goduria Altare Altare di Shara Facciamo fare A cuore scuro Eh sì Eh sì Dai Prendiamole qualcos'altro Che non è già Abbastanza È senso Che lei Piede tutto Capito Eh sì Ma colpo Sì Ecco Dai il tuo Va Il tuo Chierico di Shara Che c'ha 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 Nessuno Senti Afferra il pugnale Declama la saggezza La saggezza di Shara E ferisciti il braccio Facciamo Eh sì Dai Oh Lo faccio io 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 Aspetta Se io faccio Una curiosità Se lo faccio io Prova 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 che Diamo che Dice Sì Ah Fallito Com'è Eh io ho fallito il tiro su Religione Invece Qua è scuro Essendo già del settore Non ho avuto neanche Bisogna tirare Aspetta Fammi provare un attimo A me vediamo che dice Nessuno Senti Io non mi taglio Ma mi viene da rubare Il pugnale Secondo me è una grande offesa Quindi No no Vediamo a me che dice Vediamo a me che è successo Ah vedi Vedi Tu hai capito Sì Tu hai capito Vedi anche tu Afferra il pugnale Decita la parola di Shara E ferisciti il braccio Che dici? Ma io direi Fallo Eh fa no Fallo te Dai Il cuore scuro Gioca in casa Vado Afferro il pugnale E Prima l'occhio Vabbè Sacrifici che sto a faio Rimarrà solo un corno Adeguarsi agli usi locali Eh Ho trovato l'ispirazione Eh ma che vantaggio Oltre all'ispirazione Che Ma per me sa niente Sei sicura Non ti sei neanche tolta vita No E quindi il 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 pugnale rimane lì Però Eh si c'è Ma se lo rubi Secondo me È un'offesa Troppo grave eh Eh Vabbè Io le ringrazio Però no scusa Sto guardando eventuali Vantaggi ma Eh no Non ce l'ho vedi Sicura che non hai Mai no No Niente No 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 Non vedo vantaggi Ma è ulteriormente interagibile Vedo Quindi Riproviamo Pugnale rituale di Char Fa 5-11 danni Non è neanche Non è neanche granché No Lo faccio fare Ma cosa fai? No stavo vedendo di nuovo Che cosa mi diceva Ma Mi dice solo di prendere il pugnale Eh ma io non lo prenderei No 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 Altare di Char Lo farei fare Vediamo a cuore scuro Ci sono due perghamene Della rinascita Sinistra Ah no Ho visto Ho visto Anche cuore scuro Non Niente E a che ha servito Mette Cioè io mi taglio così Per la gloria Forse per l'ispirazione Fammi vedere Ma dai E che è solo per Esegui il rituale nel santuario Char Eh abbiamo fatto No sì È l'ispirazione Dico Magari è per l'ispirazione Però Comunque sì A proposito La pergamena della rinascita Prendi Prendi Rinascita E inaridire Se riesci a imparare L'incantesimo Rinascita Tanta roba Perché Vabbè che c'è la cuore scuro Però Prendi Prendi anche inaridire Qua c'è Resistenza al necrotico Ah Grazie Angelica Ok Grazie Angelica Va bene Mi devo imparare La pergamena della rinascita Sì Ah no Ah no Non è un incantesimo Allora no Niente Niente No Non c'entra niente No 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 Inaridire Oh mazza Inaridire 864 danni Da 8 a 64 Imparalo Imparalo Se puoi imparalo Eh Sì posso Però Imparalo Prendiamo con poco Sì Prego Fatto Fatto Ok Perché 8 a 64 danni Non so se mi spiego Eh sì Non so se mi spiego Infatti Vabbè Io Il pugnale Non lo prenderei Ah sì Quasi quasi Meno Meno Me lo equipaggio pure Eh Non è neanche Mi pare che non è in mischia Cioè Comunque Vedi 9 metri Non è lontano Però non è neanche vicino No Quindi Eh ma al composto di cosa lo metti Attenzione perché Non devi avere Troppi incantesimi Dello stesso livello Perché poi alla fine Ne puoi fare pochi Cioè No No questo Di che livello è Ah È di livello 4 Eh sì Va bene Ne levo uno di Livello 4 Scusa Al limite Sì Levo Il ghiaccio No Levo Levo questo qua L'elementare Minore Di fuoco Ah Di minore Sì Va bene E metto questo Così Lo provo No Ah sì sì Inaridire E poi è super efficace Contro le piante Contro quei nemici Sì Vegetali subiscono Il massimo dei danni Da questo incantesimo Che svantaggio Ha questo Di lo salvezza Eventualmente Contro qualche pianta Bene bene Qua io non so Che non mi ricordo Se forse ero entrato Ma non credo Di essere entrato Di là Non lo so Non mi ricordo più Comunque Hai visto Tanta roba Pazzate Possiamo uscire Sì Aspetta Prima di uscire Aspetta che Ecco Eh sì Ah sì Per carità Sennò stavo Ok Ma io mi ricordo Che qua Da queste parti Ci doveva essere Una tappa Però Vogliamo salvare Visto che abbiamo fatto Tutto questa Ambaradan Certo Beh Ma c'è Ma che Se no tocca Riffa tutto Capito Eh sì Magari non esce Neanche Comunque Comunque Sono bella Carica Incantissimi Andiamo a minare Qualcuno Così li provo Eh sì Sì Anche se Prima Io Saluterei E calla Se è sul più bello Che sono bella Carica Salutiamo Vabbè Salutiamo Eh sì Giusto Giusto È passato tempo È vero È vero È già una certa È già una certa È una certa È una certa Però mi raccomando A sto giro A sto giro Appunto Dobbiamo cercare Di Allora Temporeggiare Il più possibile Per forza Eh perché sennò Quei vantaggi Poi li perdi Eh sì Eh sì Venti scema Mamma mia Cioè Tutti questi Incantesimoni Poi Ma cosa si fa Li devo spargere tutti Tutti Va bene La prossima volta Va bene Ciao a tutti 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 Ciao a tutti